ciao a tutti non so se sono già in diretta ora controlliamo vediamo un po ecco qua sì 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 vedo che iniziano ad arrivare i primi a connettersi i primi amici vi saluto vi saluto vi saluto vi saluto assolutamente tutti quanti ben ritrovati ciao dicendo in realtà se rimane così a mettermi tipo un filtro perché veramente non mi spoguarda vediamo un po c'è la possibilità di mettere un filo no no vabbè non li metti i filtri non mi ci trovo ma come lo levo il fatto che non voglio filtri da qua via giù cacca tu cacca come si toglie allora no questo no allora ben trovati ben trovati a tutti ti devo mandare un filtro dove sei truccata e dai mandamelo mandamelo gustavo così magari lo uso anche durante le serate però dove dove sono truccata bene possibilmente ciao alessio ciao a tutti ti sono cresciuti i capelli si me li sto facendo crash metto qualcosa in testa per per coprire perché non si può guardare ho visto che si è connesso carlo bruni tantissimi auguri carlo visto che oggi compi 30 anni di carriera giusto nico sono dimagrito prima della quarantena e mi sto mantenendo non non sono ancora di dimagrito ancora truccata bene quindi maiamo grazie mirko bonfrati ti voglio bene ti voglio tanto bene ecco qua che si stanno connettendo tanti amici perché da quando abbiamo iniziato a pubblicizzare il appunto questa intervista sia a me sia all'ospite che è quello quale interagirò tra poco sono arrivati tantissimi messaggi soprattutto perché insomma vi state chiedendo che cosa si diranno mai due persone che solitamente insomma fanno parlare per altri motivi non certo perché ci vedete in insieme in contemporanea in video e soprattutto a chiacchierare ma oggi vi oggi vi racconteremo qualcosa mi disegno la frangia è vero col pennarello mi potevo di insegnare qualcosa che si ciao cristiano ciao vorrei farvi notare che praticamente sono quasi tutte drag quelle che sono collegate in questo momento e l'adoro ciao della frigida ciao clizia allora allora voi sperati non arrivi uno stile vannoni mina ma in realtà mine la vanoni quando hanno cantato amiche mai non si sono incontrate la vanoni si è lamentata di questa cosa proprio perché non non l'ha neanche incontrata personalmente dopo ne fai una dopo la sventura fa una diretta con asia adoro altro che live no 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 regina non spoiler o nulla io mi sono messo la giacchina elegante perché insomma mi piace appunto il fatto di poter insomma di presentare così ecco giusto per mantenere un attimino visto che la faccia sta crollando almeno con la giacchina allora io direi che ci siamo tra l'altro ho anche nel mio quadernetto incredibilmente etero ho anche mi sono preparato delle domande da rivolgere appunto a regina però se volete partecipare anche voi con delle domande ora vediamo se ci piace le facciamo se non ce ne sbattiamo il cazzo aspetta che già sono rimasto attaccato vedi perché non uso mai le paillette perché non mi ci attacco io non sono drag da paillette ok fatto allora vediamo un po arriva 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 regina vado ad invitarla aspetta che dovete innanzitutto come si fa ad invitare qualcuno che io non è che so praticissimo allora mi sa che nunzio mi dovrebbe regina puoi chiedermi di partecipare alla alla diretta è così che funziona deve chiedere lui non so come cacchio funzionano queste cose ci entrate nello zoom vabbè al massimo l'allontaniamo un pochettino di più il il video devo chiamarlo io e come cazzo come lo chiamo che fa nunzio regina aspetta forse da qua no questi suoi filtri trasmetti in diretta con e però regina maie minunzio mi dice impossibile partecipare quindi che fa già mi ha bloccato regina mi devi mandare tu la richiesta di partecipazione vedi anche paolinelli lo dice deve farlo noi no vabbè adoro questa cosa proprio due rincoglionite tra l'altro c'è un faro tipo d'urso qui davanti a me fa un cazzo di caldo ragazzi allucinante regina deve mandarti la richiesta maie nunzio manda la richiesta aspettate ragazzi che nunzio prima deve capire come si fa nunzio in alto vedi richiedi a diego eccetera eccetera sto adorando sta cosa come potete ovviamente intuire non abbiamo fatto prove c'è un rifiuto naturale no due vecchie raga veramente cioè non abbiamo fatto le prove tecniche infatti in diretta con la sauna io sto schiattando dal caldo allora mi è arrivata annunzio esci rientra in diretta e ti compare manda la richiesta fai così vediamo se ce la faccio due rincoglionite veramente raga mamma mia non ce la possiamo fare forse non ha un dispositivo adatto allora un attimo perché regina sta facendo delle prove perché mi hanno detto che dal piccio è il problema che ogni tanto le crescia il programma altrimenti entrerà dal cellulare regina ha un nokia 3310 mi dicono adesso dalle regie le mando un piccione a bari sai che cos'è il piccione che è lì? il piccione è quello delle femminucce allora qua nel frattempo mi arrivano richieste di partecipazione al video tranne da regina mi stanno arrivando da chiunque c'è anche Tommy D connesso ciao Tommy tesoro allora ragazzi prima fatemi intervistare regina poi partecipo alle altre poi accetto le altre richieste bisogna vedere che telefono ha eh non lo so che telefono c'hai regina aiutiamo regina maievi in qualche modo no sto adorando veramente le rincoglionite ce la facciamo non vi preoccupate ce la facciamo nel frattempo ripeto io c'è il mio quadernetto sul quale mi sono segnato delle domande da fare da rivolgere a regina la diretta dura massimo un'ora regina fai qualcosa vediamo io non so neanche se è ancora online come si fa fatemi vedere eccolo qua aggiunto ce l'abbiamo forse ce la facciamo ce l'abbiamo fatta oh ciao ce l'abbiamo fatta una tragedia però ciao ciao andiamoci al sole ciao ciao siamo due anziane rincoglionite non c'è verso io volevo farlo dal pc ma è un casino avevo anche le cuffiette tutto coso niente ciao tipo telefonista avevo anche la nutella avevo anche guarda la nutella il caffeino ciao cosa vuoi il caffè mi sa che c'è bisogno che te lo bevi perché ti vedo abbastanza assonnato anche perché stai facendo sempre tardissimo come al solito nella nostra vita se a me sei malissimo anche la luce guarda un po' di luce guarda meraviglia è lo schifo no sto facendo tardissimo perché ovviamente le mie giornate sono la luce è terribile va bene così perché le mie giornate comunque sono sono belle caotiche alla fine nonostante siamo in quarantena perché forse non lo sapete ma io stavo lasciando la Toscana per andare a Torino e mi sono trovata incastrata a Pisa perché stavo lasciando casa e sono a casa di una amica questa amica lavora in ospedale e faccio la golf quindi ho scelto di rimanere qua con lei e faccio la golf quindi mi pulisco a casa faccio da mangiare mi occupo della spesa lei torna dall'ospedale delle volte disperata e quindi faccio questa cosa e allora quando finisco di fare tutte quante queste cose mi occupo del mio blog quindi alla fine sto lavorando di più ora che prima sono stanco dovresti essere stanco però sono felice ma zitta cioè sto bucando tutte le calze perché mi lo scalzo sempre un casino io poi ho una sola borsa perché quando ho fatto stavo preparando il trasloco essendo un weekend ho detto vado a casa di questa amica perché non voglio stare a casa con degli scatoloni e allora sono venuto qui a Pisa con un borsone ti dice tipo tre maglietti due mutande due pelli di calze quindi da due mesi lavo e rimetto la stessa roba proprio una cioè c'era veramente una tra qui povera non una povera tra qui ma una tra qui povera ora ma è semplice che la tua amica ti possa prestare tanto neanche c'è problemi voglio ammettere qualcosa alla donna allora tendenzialmente sì te ne do conto che anche lei cioè lei è trans e quindi cioè nell'armadio un po' di cose ci sono ma sono molto piccole che è piccola quindi non mi ci sta nulla ma poi dopo al 37 di piede dai come te insomma infatti infatti la prossima volta ci scambiamo tu c'hai lo stesso numero del mio compagno quindi 46 quindi figurati hai una giacchetta orribile lo sai scherzi l'ho presa dai cinesi qui a Milano l'ho pagata tipo 15 euro non lo so mi hanno fatto un dispetto amore lo sai ho perso una scommessa di tossarla si sono collegate praticamente tutte le tra qui d'Italia pronti a uno scornamento il telefono ora sono sul telefono arrivano tutte le tutte le varie le varie notifiche da qualunque cosa adesso non mi fa il muto perché sono stata la conversazione comunque nel 2020 ho imparato a fare una cosa con Instagram ma guarda che ultimamente stai diventando incredibilmente tecnologica tu sei sempre stata refrattaria a queste cose da morire tu c'è mia madre tutte queste cose cioè ma il blog l'avevo cominciato nel 2012 quando lasciai il mamma e quindi c'era molto incazzato all'epoca quindi volevo scrivere un po' di cose poi rimanendo solo non avendo sono spariti tutti quindi bla 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 poi dopo nel 2014 è mancato mio padre e non ho più scritto nulla perché non avevo proprio voglia quindi insomma e ora è successa questa cosa che con questa quarantena allora le cose erano o passavo la giornata a discutere con tutti su facebook perché scrivono delle cazzate megagalattiche fra complottisti e sono gli UFO uno mi ha mandato la foto di Hitler che finge la mano a un marziano guarda non hai idea ho cancellato tipo dalla mia pagina una ventina di persone non sopporto i complottisti per quelli che ce l'ha con quello Conte dice una cosa che fa schifo lo dice quell'altro o li dico con tutti già avevo discusso per Achille Lauro e già ne avevo fatti di guai allora ho detto senti facciamo una cosa rimettiamoci a scrivere ed è venuto spontaneo praticamente cioè vi escono le cose dalle mani come quando ci sono gli schiaffi ma si vede quando ci sono gli schiaffi dalle mani è uguale ti vengono così e non ce le fanno cioè proprio mi viene da scrivere quindi scrivo e non credevo che venisse fuori tutto sto casino invece guarda io ero assolutamente certo appena visto che stavi rimettendo mano al blog che già avevo iniziato a leggere appunto tempo fa l'ho detto faccio le facce ho detto sarebbe bello proprio se iniziasse a farlo in maniera proprio cronologica e non a mi viene in mente sacco se dico questo eh infatti infatti il guai è quello devo dire che ho messo in campo tutti cioè ho dovuto che ho c'è passione che ha amato i morti quasi ho messo in moto tutti ma dal lato di parrucchia quelle che lavorano con me al mamma da Diego da Angel David che non lo sento mai e quindi per tirare fuori ricordi gli anni precisi da quando abbiamo cominciato cosa abbiamo fatto e ora abbiamo dicevo che appena hai chiesto al pubblico avete foto video qualcosa ti hanno riempito di materiale allora a parte che tipo tre persone cinquemila foto infatti mi hanno bloccato il telefono quindi ce li ho rigirate al mamma ho detto bibi sono le vostre aggiustatevi perché quando me ne sono andato è come con gli ex quindi abbiamo strappato tutto cancellato tutto a parte dei video del lab prima di dire appunto il fatto di quando innanzitutto c'è un ragazzo che ci stava chiedendo l'indirizzo del blog dillo tu precisamente che è un titolo un po' lungo così regina mi ami tutto minuscolo attaccato allora regina mi ami punto blog spot punto com comunque sulla mia pagina c'è il link sempre più a buio sono va bene alla luce allora mi ero segnato qualche domanda da da fatti così insomma per chiacchierare cose insomma che ovviamente tra di noi sappiamo ma mi piace il fatto che arrivino anche agli altri allora il vabbè del blog appunto ne abbiamo già parlato segnati di tanto nella conversazione leggete benissimo come si chiama il pubblico sta reagendo benissimo e questa cosa e questa cosa la sta una una cosa allora è stato molto bello capire come ti sei avvicinata appunto alla realtà del mamma come è nato è nato tutto e a me personalmente è piaciuto anche molto quando hai raccontato se non erro ieri o l'altro ieri com'è nato Misra Queen Italia visto che è un concorso anche io ho scoperto con salto di postanghera appunto Misra Queen è nato lo sapevo allora lo sai Misra Queen nasce per gioco perché era carino perché poi all'epoca noi eravamo come Dra Queen nel 2000 al 99 Dra Queen in Italia ci erano tipo 15 20 ma neanche 20 perché c'erano quelle del pensiero stupendo quelle del borgo di Milano che erano appena nate a Roma c'era già iniziava e se c'è il village c'erano alcune quelle del gloss quelle di mucca quindi non eravamo più di bene essendoci internet ancora non sapevamo non c'era il giro per il mondo a Milano c'erano le lade di parruc c'erano le osse di volo ma prima c'erano anche la Jessica Linda Roy c'erano molte che erano allora ho detto perché non facciamo una cosa fondamentalmente questo nasce da troviamoci delle serate per portare gente by the way con tu conosci e quindi ho detto Ale io ero in ufficio d'Alessio gli ho detto Alessio perché non facciamo Miss Dracqueen lui ha guardato un po' così la cosa perché le travestite le bastava già una e mezza che era la Marchesa dice già basti avanti e di danni ne stanno già facendo fin troppi e allora ho detto va bene dai facciamolo e infatti però ci credeva giusto perché mi ha fatto fare tutti i giovedì voglio dire fare il giovedì è una merda chi sei di giovedì a luglio al mare allora ho detto ok e lui poi talasso disse vediamo di registrare il marchio almeno non te lo rubano le ultime parole famose punto va bene va bene così anche va bene così anche perché se no non avrei saputo come gestirlo in questi dieci anni che non l'ho fatto quindi va bene non tutti i mali vengono a cuocere e quindi è partita sta cosa ma contattare le drag queen tu lo sai meglio di me cioè è difficile adesso con tutti i mezzi che abbiamo fai prima fare una seduta spiritica e anche mai tutto apparentato il morto e fai veramente prima perché all'epoca era che cos'è quanto mi date mi pagate cosa devo fare io non vengo a fare pubblicità al vostro locale non è cambiata tantissimo io non vengo a fare pubblicità al vostro locale non lo conosceva nessuno a queste non vengo a fare pubblicità al vostro locale le milanesi bianche e morte si sono mosse perché figurati c'era il borgo poi c'era c'era questa cosa che c'era il divieto di muovere di andare in giro Roma aveva i cazzi suoi quindi sono venute tipo dieci quindici credo bene o male alcune erano proprio orrende quasi tutte erano orrende togli Regina Fenix che era pazzesca già all'epoca lui era bello aveva già di suo che era bello Regina Fenix poi chi altro c'era vabbè Lady Raissa ma stava giocando in casa e quindi Barbie Bubu con le sue solite puttate in testa è sempre rimasto uguale non è che ma che la cosa sempre rimasto eravamo tutti più giovani qui dieci anni fa ed è venuta fuori questa cosa solo che il Liguario è stato chi ha richiamato una marea di gente hai visto il video dell'ultimo video una marea di gente e poi i giornalisti cominciavano a chiamare per sapere che cavolo stavano combinando e ci siamo ritrovati perché quando si cominciava non c'era neanche il palco eravamo sullo ster cioè sul palco su un pavimento come delle disperate buttate in un angolo esatto e quando a un certo punto la gente è cominciata a salire sui tettini delle macchine per vedere a Cristian Panicucci venne in mente facciamo fare il palco dal fabbro e così fece quel palco palco che miseramente è crollato nelle ultime edizioni di Vis Tranquil al peso mio di una natura eravamo tutti quanti in un angolo e poi l'angolo è crollato però ha resistito abbastanza e quindi fece una cosa e bene o male che si mangiarono le mani potevamo farlo in un momento migliore perché ha tirato su tanta roba tanto che poi l'anno dopo come ho scritto Velena quando vinse all'aeroporto la bloccarono i giornalisti dovete fare una conferenza stampa allora nell'aeroporto gli hanno dovuto dare una stanza dell'aeroporto per fare la conferenza stampa e poi da lì sono partiti tutti quanti i vari cosi e poi dove come hai detto tu con il tuo regina d'inverno sei venuta fuori tu la mentre della Sicilia non diciamo nulla perché c'erano se si rega casini di Sicilia non me le mani cioè c'era come si chiama Lolita giusto l'amica tua quella che mi ha trattato malissimo nel 2011 ma perché a me mi ha trattato bene scherzi anche lei le combinò e quindi le siciliane non venivano dei casini quindi abbiamo dato le abbiamo fatte conto come straghi guarda le correnti di pensiero sono diverse perché ci sono stati alcuni che hanno detto eh però dai vanda beata te che che hai ereditato mistra qui in Italia è una malattia grave da parte tua avrei preferito ereditare tante altre cose ma mi trovi in Italia grazie come pensiero grazie perché siamo siamo complicate poi fondamentalmente ce ne investiamo tanto per fare quello che facciamo e quindi se non veniamo riconosciute ci gira il cazzo detto in italiano e quindi è vero che tutti si incazzano voglio vincere io voglio vincere io noi tendenzialmente abbiamo cercato di premiare quello che veniva fuori però dalle votazioni delle volte dei risultati uscivano dei personaggi senza senso ho visto la finale quella del 2003 e effettivamente mi sono chiesto ma se ci fossi stato io chi avrei votato probabilmente mi sarei andata a mangiare un panino al paninaro c'è stato il primo conflitto di interessi adesso lo posso ha disatto di quasi 10 anni il vincitore effettivo diciamo non fu lui però quello che doveva vincere lo poteva vincere perché è sempre stata una guerra abbiamo scelto perché poi i voti poi dopo nella selezione nel conteggio dei voti finali eravamo tutta la giuria insieme e quindi abbiamo poi dopo stabilito che la persona più c'è più originale fosse questa mistake con tutta l'immondizia addosso gli altri non è che fossero un grand care c'era solo Raissa che ha fatto però ha fatto in fondo al mar la cosa più banale era fare in fondo al mar della sirenetta fare Ursula quindi tutta questa novità non c'era però per un voto lei era quasi di vicino diciamo dicono che parte di quelle votazioni si sono ancora nascoste sotto qualche mattonello a mamma mia quindi cercatevele cercatevele controllerò perché tanto si stanno sellevando prima o poi tra un po' si sposta da solo quel posto senti o io che ci stanno guardando dal mamma tutti lo sai eh vabbè che dobbiamo fare si pare siamo qui per chiacchierà senti una denuncia in più nemmeno a chi va allora passiamo a qualcosa di un pochettino più piccante che tanto lo sappiamo che qua queste iene che ci circondano vogliono sapere quello cosa vuoi? allora quando arriviamo direttamente al 2010 cazzo allora vabbè io e te eravamo amici dal 2007 ma non ne parliamo perché tanto ecco il 2007 sei arrivata tu giusto? non al mamma al lab era il 2007 sì con Tosca eh sì ci siamo conosciuti nel 2006 per telefono e poi nel 2007 sono arrivato con Tosca sì sì ma tanto di questo so che ne parlerai anche nel blog quindi certo che ne parlerò scherzi sei colpa mia eh appunto perché sei colpa mia io ti ho portato io l'ho sempre detto ogni volta quando mi dicevano eh sei venuto perché io per anni sono stata accusata di essere venuta a rubarti il il posto la voglia e io dicevo ragazzi guardate che io sono qua per il giro perché io perché io ti feci arrivare su pagandoti il viaggio ma tu pensa che mi ricordo Nunzio che quando mi dissero nel 2006 che ti invitammo da Bari per la premiazione di premio sacro del premio cuore sacro che meraviglio cuore sacro e ti invitammo e loro mi dissero invitiamo Regina Miami eccetera eccetera io devo essere onesto non conoscevo te non conoscevo il mamma e mi dissero il mamma si trova a Torre del Lago nella mia ignoranza abissale a livello geografico era tipo nel Salento Torre del Lago perché Torre del Greco io l'associavo a Torre del Lago quindi pensavo che il Salento arrivasse da Napoletano esatto mi si aprì proprio mi si aprì un mondo poi appunto nel 2007 sono stato ospite da te e da lì poi madrina di Miss eccetera eccetera regina di inverno e tutto quanto ma arriviamo al 2010 io come tutti so bevo caffè nel 2010 in piena notte perché è tradizione in piena notte mi arriva la telefonata da Torre del Lago che mi dicono ciao Vanda stavamo pensando sta nascendo questa nuova realtà sta nascendo lo stupida questa nuova realtà e stavamo pensando a te perché mi aveva proposto poi vabbè le vorie voci sono state mille che mi aveva proposto la Marchese mi aveva proposto Diego mi aveva proposto Remedi mi aveva proposto David Palazzo mi aveva proposto chiunque pure la dirimpettaia comunque vabbè insomma come io sono la creatura di qualcuno però è insomma mi arriva la telefonata e mi dicono dobbiamo fare dobbiamo creare questa realtà io la prima persona alla quale ho telefonato la mattina dopo è stata Regina Mayemi io telefonai io ero già disperato io telefonai a Regina e dissi Nunzio mi hanno fatto questa proposta noi siamo amici da tempo che cosa mi consigli di fare e tu cosa mi consigli buon divertimento ti ho detto vero ti ho detto amore buon divertimento va bene ma cosa ti dovevo dire cioè mica sono mica ero la proprietà del mondo cioè era ovvio che era che era che era che era che era un rispetto fatto apposta perché tu eri un mio amico io ti ci avevo portato poi avevamo fatto delle cose insieme quindi era una maniera per colpirmi però andava bene tanto voglio dire è meglio te che qualcun altro e fidati meglio te che qualcun altro fidati ma dimmi una cosa va bene quell'anno sono successi no non me ne sono pentito perché non mi sono pentito di te poi abbiamo scoperto che eravamo colleghi quindi è venuto fuori mille cose no non sono pentito di questa scelta neanche morto anzi ma quando è nata appunto la realtà dello stupida contrapposta al mamma eccetera eccetera sono iniziate per noi tutta una serie di rotture di rotture di coglioni spaventose perché io mi ricordo che mentre ero sul palco dello stupida arrivava sempre qualcuno del nostro pubblico meraviglioso che faceva regina di là ha detto questo regina ha appena detto che sei una nana di merda che questo saltiamo questa pozzangher amore la saltiamo ci sono mille cose e mille volte io a volte non me le ricordo niente io una cosa che ti volevo chiedere in quel periodo so perché appunto qui ci fu un modo di confrontarci ma c'era da parte tua nei miei confronti un un odio vero o era un odio indotto era un odio indotto ma non dalla proprietà ma da tutti in generale perché ma non era neanche odio cioè ti dà fastidio quando tu sai che guarda che di là quella ha detto che tu uno due ti dice ma mandala a cagare quella che cazzo vuole cioè era ovvio che poi la cosa buona è che comunque negli anni ci siamo sempre trovati alla fine poi noi non eravamo solo concorrenti là siamo stati concorrenti anche a Milano ricordi quando c'erano i primi aperitivi a Milano che tu eri con uno io ero con un altro ah ma vabbè con agli unici e quindi c'hanno sempre marciato su queste cose bene o male ma fondamentalmente io certo non mi stavi non mi stavi simpatica nella maniera più totale bisogna dirlo ma non mi stava simpatica questa cosa del fatto che ogni volta che io mollavo il campo arrivavi tu e quindi dalla noia dici minchia ma se mi hai messo i piedi questa non c'era una vita poi no scusami te lo dico ma non è che dipendeva da te era era che ti ci infilavano tratti e va via lei mettiamo subito vada cos'è almeno tutte felici almeno si scatena la cosa poi figlia mia ci hanno usato per cioè per far serata per far cassetto per far oh mia sorella è online Cristina mia sorella e mia sorella ciao Lella capito cioè quindi fondamentalmente siamo state pezzi di una di una scacchiera quindi dove levavano me mettevano te perché sapevano che sarebbe creata tutto un un c'è un vociare perché al posto di mettere te mettevano qualunque altra sarebbe stato easy invece tu eri la l'arci nemica la nemica amatissima e quindi era tutto quello poi fondamentalmente senti non è che siamo che stiamo parlando avanti una nazione facciamo facciamo un gioco un lavoro che noi piace ci diverte un sacco e stiamo con con la gente il nostro compito è trasmettere delle belle cose quindi quello c'è quello che viene dietro è tutta un'altra sono puttanate guarda in realtà a me la cosa che dava fastidio era appunto tutto il contorno perché il fatto il fatto che tu potessi lanciare qualche frecciatina contro di me come poca inchiata è una cosa che io però te l'ho sempre detto e ci sono i testimoni io personalmente non l'ho mai fatto dal palco dello stupida partivano frecciatine ma non per bocca mia nei confronti del mamma però a me la cosa che in generale dava fastidio era il fatto cioè io quando sono arrivata in Toscana mi sono sentito veramente odiato e già ma scherzi tu eri quella che usurpava il trono è vero mi hanno invitato a lavorare in una situazione e ho accettato ma c'era un odio amore mio siamo anche terrone e noi quando una quando una entra in casa nostra è casino ma che vuole quella funziona così poi io sono anche più vecchia e ho un carattere molto più di merda in assoluto lo so sono single per scelta mia e degli altri perché sono carattere mio quindi ogni tanto tiro fuori delle cazzate ma continuo a farlo non ti credere però mi ricordo insomma appunto di quel 2010 le drag fu un anno terribile perché fu un anno terribile perché perché io veniva a sapere un po' di cose che non andavano bene ma non c'entravi tu c'entrava proprio partire dall'alto e io ero già un po' in crisi perché il fatto di essermi messo in mezzo a due a due che si stavano separando a me non faceva bene poi noi facevamo una parte di stagione con l'uno una parte di stagione con l'altro quindi non ti dico un gran bordello e cominciamo a essere stufo cominciamo a essere stanco e ho trovato l'unica maniera era levarmi da questo gioco al massacro perché è stato un gioco al massacro purtroppo era il loro gioco ma poi è diventato il gioco di tutti perché poi il DJ di qua odiava il DJ di là proprio il fatto del contorno a me la cosa che dava fastidio è che parlava chi non c'entrava un cazzo cioè nel senso fin quando pure le pulche avevano la voce certo quando parlavi tu la direzione e cose del genere era un conto ma tutta la gente che poi parlava tutto il mondo ma il mondo si basa su questo giro sul gossip mamma mia che fastidio infinito non ti invidio guarda non ti ho invidiata perché c'è veramente poi dopo eri quello al fondo quindi per noi per noi cioè arriveremo te lo dico dov'è lo stupido com'è il cesso in fondo a destra questo era questo era quello che dicevamo ma non lo dicevo solo io il poveretto il poveretto perché no questo è venuto poi dalla rabbia dalla rabbia di di sentirsi usurpate di sentirsi messi da parte non è stata una cosa per niente facile poi ci venne tolto e poi non erano manco cazzi nostri perché ci venne tolto poi ci venne ridato e poi andavamo di là alla fine noi non è che avevamo le azioni siamo stati le vittime di una linea familiare come giù al sud che chiappano tutta la parentela e tutto uno burdello ecco detto questo eravamo noi le vittime diciamo ma noi eravamo vittime veramente eravamo vittime quasi carnefici però eravamo in mezzo a un gioco e cercavamo di stare più in mezzo possibile in modo da non almeno tra parte mia è stato proprio un casino perché non stavo bene perché telefonava uno telefonava l'altro chiamavano quegli altri allora è stato terribile guarda l'11 e il 12 poi ciao e lì ho poi deciso basta arriviamo al 12 nel 2012 inverno 2012 io stavo tornando da una serata ottobre ottobre sì 2012 stavo tornando da una serata fatta a Milano mi arriva una telefonata sai Vanda stiamo stiamo pensando cioè per te ho un problema lo stupida al mama e faccio raga a me personalmente non me ne ho pregato assolutamente un cazzo e la mia risposta fu dai sarebbe anche divertente il fatto di lavorare sullo stesso palco con Regina e io faccio ma facciamo dobbiamo fare riunione per parlare eccetera eccetera no oggi pomeriggio appena scendi dal treno abbiamo riunione perché era già stato fatto l'ultima io sono stata l'ultima a saperlo sì anch'io va bene no io io me ne io allora questa pozzangra la devo saltare perché non è bella ma neanche ricordarla no no va bene arriviamo appunto nel nel 2012 ottobre 2012 doveva nascere appunto cioè dovevano ritrovarsi quindi sul palco dire le cose perché uno partiva da la mano e Regina fino a quando poi arriva il tuo post un tuo post devastante io mi ricordo benissimo la morte io ero a casa di Paul di Paul Estate di Paolo Sar a un certo punto mi chiama David e mi fa vai immediatamente sul profilo di Regina che faccio che cazzo è successo io onestamente mi ero preoccupato e leggo il post sì mi è andato per morta leggo quello che che hai scritto e guarda no non ne potevo più ecco e Paul si gira io mi sono appoggiato al suo armadio e sono crollato proprio ho avuto proprio cioè non svenuto però proprio mi sono mancate le forze e ho detto a Paul ok sono ufficialmente nella merda e invece no no io ho mollato perché non ne potevo più tutto e io che speravo di poter dividere con te determinate determinate dinamiche mi sono ritrovato così come una cogliona praticamente no io ho deciso poi basta di levarmi dal gioco perché non mi sentivo più a posto dopo che ci arrivò l'ennesima denuncia quindi non ne potevo non avevo più non avevo più voglia di non di far parte di ascoltare di ascoltare tutte le lamentele poi dopo c'era in quel periodo papà e il mio padre si ammalò e quindi avevo c'era tu lo sai ci sono altri cazzi per la testa e quindi ho detto basta basta io vado volevo raccontare non so se ne parlerai nel blog nel caso bloccami comunque ci fu una cosa molto carina che praticamente Regina scrisse appunto il post io ebbi il crollo e la prima cosa che io dissi dissi telefono annunzio immediatamente ti ricordi che ti telefonai non mi ricordo te lo giuro io ti telefonai e fu in realtà una telefonata che ci avvicinò tanto secondo me perché tu stavi piangendo come un bambino al telefono ecco perché non me la ricordo stavi piangendo come un bambino abbiamo parlato e mi hai spiegato le tue motivazioni io speravo che tu tornassi sui tuoi passi però ho assolutamente un terrona un terrona però ho assolutamente capito anche perché stavo vivendo la situazione quindi ho capito assolutamente tutto quanto però quella telefonata io me la ricordo perché il mio primo pensiero è come quando appunto la prima volta sono arrivato a Torre del Lago il mio primo pensiero è stato proprio telefonarti e sentire davvero la tua voce e sapere che cazzo sta succedendo non dalle voci io sono dovuto scappare di casa quel giorno richiudermi al Burger King di Viareggio ho passato un pomeriggio chiuso al Burger King di Viareggio con Lorenzo la Emini buonanima e poi mi hanno aggiunto Sarangelini che è la Viareggio vengo no fu terribile ma volevo sganciare avevo bisogno di levarmi questo problema dalla testa e poi comunque c'era necessità di fare altro oramai erano passati dieci anni la undici basta andiamo avanti facciamo altro e non è stato facile fare nulla non è stato facile una cosa che ho riscontrato anche sulla mia pelle successivamente e che in realtà mi ha fatto mi è disperciuto molto che tu abbia vissuto io so che una volta che hai mollato il mama hai avuto diversi volta faccia comunque tanta gente è sparita tanta gente sì spaventura tutti appunto che ti gravitava in tono perché eri da sopra e a quel punto non ma quello uno dice sempre non è non è non è lo è perché purtroppo gli sciacalli girano anche quando sei viva non solo quando sei morto e sì l'avevo io avevo gente in casa per anni quindi la casa mia era sempre piena di gente ti ritrovi senza nessuno ma veramente senza nessuno c'era la Emily che praticamente mi gira 21 Lorenzo senza nessuno in più ero solo mi ricordo ancora che passai il primo ferragosto a casa da solo i miei amici mi mandavano messaggi noi chiamiamo il mama e io ero a casa da solo a ferragosto da solo quindi mi sono ubriacato come una bestia perché ero comunque ero l'isperazione totale quindi andiamo avanti se cosa saltiamola perché perché fu veramente duro ma guarda che poi sta cosa sta continuando ancora perché molti li sto perdendo per strada e va bene questo ti fa scoprire altri valori però ha fatto veramente male sta cosa ma fu tanto perché cioè da essere la c'è la regina a essere a essere nessuno e cioè non è carino poi aggiunti tutti i drammici avevano il fratello perché tantissime cose perché se ne erano meno poi girava la voce che ero stata cacciata che ero ingestibile che spacciavo la voce che faceva più ridere e il fatto è che dicevano che ero stato io a cacciarti e io tutti quanti sono arrivato a tutto sto potere da poter cacciare chi l'ha costruito sto posto cioè mi veniva da ridere insomma sì ma poi c'è anche c'è tipo durante i miseraquini che c'era ad agosto in quel periodo molti mi chiamavano noi stiamo venendo su C6 eh per non parlare poi dei messaggi da lì in poi senza di te non è uguale e mi ho capito ho messo una casa perché io non si è passato a salutare a prendere un caffè e poi a dare comunque non è stato per niente bello però devo dire serve a fare pausa serve serve assolutamente cioè il primo anno non è stato non ho potuto lavorare perché comunque con le voci che giravano che l'ho stata cacciata che l'ho stata mandata via che rubavo soldi che spacciavo che era ingestibile che io mi drogavo come una pazza e quindi non potevo stare sul palco non stavo in pittisbo morga l'idea queste cose qua molti locali mi chiamano tanto che andai a fare una serata una volta a Spezia e a un certo punto vedevo che l'atteggiamento dello staff era strano e gli dissi ma cosa c'avete perché ci hanno detto che sei ingestibile rubi capito quindi io per poco più di un anno non ho potuto lavorare più finché non è arrivato il Feiri che era il nostro nemico storico del Mamma Mia del Lab e mi ha detto mi ha chiamato recente sabato sei da sabato sei nostro e io anche lì ho pianto ho detto grazie e da lì siamo andati avanti altri sette anni col Feiri quindi devo dire che qualcuno ci ha creduto ancora e siamo andati avanti e abbiamo portato avanti delle belle cose però adesso a parte questo levando tutto questo schifo che c'è stato tutta questa parte nera io sono felice di quello che c'è stato sono felice di quello che poi è venuto anche dopo perché comunque non dimenticare che il Mamma Mia è stato il primo locale d'Italia ed è stato quello che ha che ha preso le persone e le ha portate fuori le ha riportate in strada le ha portate alla luce alla luce del giorno dando un coraggio questa gente dava a noi il proprio coraggio in mano e noi l'abbiamo l'abbiamo fatto vivere abbiamo l'abbiamo fatti ballare in strada in spiaggia le facevano ballare un paese di essere gay un paese dove la gente camminava per mano i gay camminavano per mano i gay le diche camminavano per mano era storia c'è quando c'è quando vendono le drag queen dall'estero la stessa la stessa con la gay quando videro quella cosa e mi dissero solo tu ce l'hai cioè e questa è l'unica cosa bella buona che abbiamo fatto poi tutto il resto può essere bello brutto lo schifo c'è stato dappertutto c'è dappertutto non credo che siamo l'unica organizzazione al mondo che ha avuto questi problemi da quanto vedo il giro per l'Italia i problemi sono più o meno sempre gli stessi la cosa buona è quella che mi ha fatto davanti un po' come ha detto Silvia Rivegliela durante lo stonewall che a fine film disse questa è la mentora ma io sono solo una travestita ho visto solo quello che potevo vedere con i miei occhi capito cioè alle spalle deve stare e alle spalle quindi va bene sai soprattutto una cosa cioè noi siamo rappresentiamo dei personaggi purtroppo tanta gente non si ricorda il fatto che noi rappresentiamo dei personaggi che nascono e muoiono dal palco cioè noi saliamo sul palco ed esistiamo appena mettiamo il piede giù dal palco noi siamo delle persone normalissime la gente in realtà dovrebbe vivere e godersi solo quello che noi presentiamo sul palco cioè che cosa cazzo ve le facciamo eh no perché la gente poi si innamora e quindi è fantastica su cosa facciamo dopo cosa facciamo prima il mamma è stato una realtà meravigliosa per migliaia e migliaia di persone così come ancora adesso è una realtà che migliaia di persone amano i numeri sono cambiati perché oramai quei numeri non li fa praticamente più nessuno in nessuna parte eravamo gli unici all'epoca ora ci sono tutti quando c'ero io non c'era il villaggio a Roma non c'era il Padova non c'era Gallipoli non c'era non c'era tutti questi movimenti quindi mamma mia era l'unico ora però appunto va bene quello che a me in realtà ha sempre dato fastidio sono i paragoni stupidi che vengono che sono sempre stati fatti cioè sono nel senso adesso ci sono tantissimi il pubblico come fascia d'età si è abbassato in una maniera inverosimile e ci sono tantissimi è una cosa che succede anche adesso e secondo me questo è il bello di questo è il messaggio l'unico messaggio che deve passare è questo che molti locali gay in testa mamma mia dico ma anche molti altri devono avere il compito di aiutare chi esce per le prime volte chi ha dei problemi e dimostrargli che il mondo gay non è tutto questo schifo che viene scritto da televisione o comunque c'è dagli altri purtroppo poi ti dà noia che lo stesso mondo gay ha mille problemi va bene oramai mi sono fatto scoprono la pineta cretina di scivulva quell'altra la pineta c'era non ti puoi andare oddio adesso andare non conviene molto quindi bisogna ficarselo in testa perché non è che siamo che questi locali gay sono riscoteche normali sono punti di incontro di aggregazione dove non è che io sono etero sono ragazzino vado a ballare a cercare la fidanzata no io sono gay sono lesbica vado in un posto a cercare i miei simili hai capito c'è gente con la quale cioè a casa tua in cameretta tu a casa tua in cameretta dici ma ce ne saranno altri come me nel mondo è così e allora ora ci sono i social quindi viene è molto più facile ma prima non lo era cioè questi posti sono posti di crescita e sono molto importanti perché lì aiutano la gente a venire a stare al mondo perché poi nel mondo nasci due volte uno quando nasci due volte l'altro è quando ti piazzi nel mondo è lì che devi avere la forza e questi locali hanno veramente un'importanza enorme non solo per quello che balliamo Britney Spears facciamo le sceme con Lady Gaga no perché quando siamo con Lady Gaga vuol dire urlare al mondo io sono io hai capito ed è giusto che questo messaggio resti ma ma parlo come le vecchie veramente ti stiamo ti stiamo perdendo senti parliamo di una sono i 50 anni amore mio sono i 50 ma tu ora ma tu non lo sai certo io avevo detto l'anno scorso per il mio compreanno e la mia cosa era non voglio regali per i 49 lo voglio per i 50 anni quindi magari metterò online questa cosa dove per il mio compreanno voglio una crociera voglio fare una crociera a 50 anni e me la pagate voi 3 2 1 non lo io lo dicevo ai miei amici mi chiama il pezzotti mi dice vieni a fare la crociera mi ha telefonato Luca mi stai chiamando sta suonando il telefono blocca blocca no si rifiuta mi chiamo il pezzotti e Luca a Genova dicendo vieni a fare la crociera dico no vabbè grazie vengo e come a fare la crociera voglio dire te lo devo anche pagare vengo ti corsa e invece adesso c'è il coronavirus quindi adesso credo anche se riusciamo a farlo io ho già venduto delle cabine pure ho perso avevate la possibilità di vedere per otto giorni lavanda gastric regina aspetta che ti perdono ok ti sento bassissimo oramai dicevo che avevano la possibilità di vederci lavorare insieme per otto giorni fermati non mi fai ti sto perdendo ahhh ahhh metti le cuffie pronto mi senti? si come le vecchie l'apparecchia acustica stavo dicendo che c'era la possibilità di vederci lavorare insieme per otto giorni sulla nave da crociera è giustamente no moz niente faremo faremo la fine di Jack and Rose dalla nave senti una cosa chi sta in acqua tu o io? no io non so nuotare molto bene io neanche quindi tutte e due a mollo stiamo lasciamo il pezzotti sulla sulla zattara senti trano molto mi dicono che le dirette qua su su instagram durano un'ora quindi tra tra pochissimo finisce se andiamo a prendere il caffè c'è tre pochi già un'ora di puttanate abbiamo detto amo senti una cosa vorrei ricordare raccontare al pubblico da casa quando nel a fine quasi fine estate 2011 a un certo punto io ero in pausa sul palco c'è sul palco dello stupida c'era la Marchesa e a un certo punto Cristian mi chiama in auto mi dà il volantino con la pubblicità che la Marchesa dalla settimana dopo sarebbe stata da voi e mi dice puoi fare qualcosa io sono salito sì andarmene veramente guarda sarebbe stata una cosa migliore io sono salito risalito in terrazza ho tolto il microfono alla Marchesa ho detto guarda ti vuole Cristian ma io sto facendo il tour no 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 vai lasciami il microfono la Marchesa non è neanche passata da Cristian ha preso la borsa ed è salita dopo un minuto sul palco tuo la famosa volta che tu le hai detto hai visto i buoni non erano così buoni e i cattivi non erano così cattivi giura oh mamma io nel frattempo ero arrivato io sul palco al posto della Marchesa che pensavo fosse scesa da Cristian invece era già da te e mi dissero ma banda ma non capiamo che cosa sta succedendo la Marchesa sì la gente ci guardava veramente siamo stati un cinema noi giustamente e mi dissero ma la Marchesa è sul palco del mamma e ora che facciamo io sigla si ricomincia quale momento migliore per rullare sigla senti mancano cinque minuti un piccolo spoiler possiamo farlo so che l'hai fatto anche tu so che l'hai fatto anche tu che cosa oggi lo spoiler oggi quella cosa l'hai fatto anche tu ah sì ah tu l'hai fatta sei sei l'hai fatto anche io ho solo fatto un video allora vogliamo io volevo soltanto dire visto che manca poco che a mezzanotte Facebook verrà bloccato quindi mi dispiace ma creeremo questa cosa pazzesca che spero che serva per un serva per unire un po' tutto per rimettere un po' di pace dove dove pace non ci sarà mai però spero che metterà un po' di pace perché poi comunque tutto capita bene quindi io vi invito a mezzanotte diciamo cosa capita a mezzanotte ti cambi quella giacca però ora c'è il sole che mi illumina beata la luce del signore allora ci dico ho letto che dicono di non dirlo però diciamo a mezzanotte non ci si fa ah peccato dai ma quello ve lo fate domani allora io vabbè ma non avete un cazzo da fare tutto il giorno andate a lavorare è quello che stavo dicendo cazzandolo c'è Luca Zanforlin che sta dicendo non dite qualcosa di più no no questa volta sarà un bel compleanno infatti e quindi sarà bello festeggiare se il mamma mia non si dà una mossa guarda veramente vengo là allora mancano pochissimi minuti io ho visto che quando hanno visto che ti aveva intervistato poi tu stai parlando del mamma poi adesso il mamma sta facendo vedere un po' la sua storia e quindi io posso dirlo sono diventata vintage che bella la luce del signore che mi illumina posso dire che finalmente stiamo rivedendo appunto immagini video di tutto ciò che è stato nella storia del mamma e la trovo una cosa assolutamente meravigliosa però immagino lo stiamo chiedendo anche a te come mai tutto questo tornerai al mamma no 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 non posso tornare non posso tornare in pianta stabile anche perché non ho più l'età per mettermi a fare tutta la stagione e poi tutto lo staff è diverso sono altre cose ci sta che magari una serata quando finirò il blog verrà fatta poi come come ho detto quest'anno che c'è la pandemia magari sì l'anno prossimo e no di sicuro quindi lasciamo ci sta magari ci sta vediamo ci stiamo lavorando ovviamente nel caso è ovvio che ci sarò anch'io a qualsiasi condizione perché sarà la volta buona che quel caso di tetto crolla sono andati vicini tante volte allora la diretta sta per con la luce del signore con l'oreola anche la beatificazione dal signore così la luce del signore io ti ringrazio denunzio buona l'oreola finalmente santa ti ringrazio tesoro tra un po' finirà la diretta grazie figurati ci sentiamo ci aggiorniamo continuate a leggere il blog reginamayemi.blogspot.com e soprattutto tenete sotto le nostre pagine per vedere cosa accadrà domani a mezzanotte e anche domani a questo punto non lo sappiamo quando accadrà qualcosa ma prima o poi accadrà intanto a mezzanotte è di sicuro poi c'ho anche devo anche dare una bella notizia a mezzanotte quindi una cosa molto carina quindi a mezzanotte sulla pagina di Nunzio Sarrello reginamayemi Nunzio Sarrello reginamayemi anche su instagram quindi sei troppo mamma che tecnologia ma no ora come si chiude qua devi premere fine grazie a tutti ciao tesoro spengo il telefono ciao ciao